E ciao ragazzi, io sono Fablinker e oggi siamo qua su Get Even per un nuovo episodio. Allora, allora, nuovo messaggio, Black dove sei? Ehm, ok, ma chi saresti? Domanda molto importante, sinceramente parlando, ma dov'è la mappa? Ok, è tornata, è tornata. E questi chi sarebbero? Domanda molto importante. E' vero. The Pandora can only process what your brain offers. Concentrate only on the memory at hand. I'm trying. And try harder. No worries, Chief. Glad to be aboard. Not a hair on her hand. Trust me. You brought me here. Fuck you. Red? Hey, Red! What the hell is this? None of this makes any sense. You are here because you have formed a mental link between this man and the explosion. The Pandora is trying to decode the message. It is your mind descending. Focus. E' un tuo errore, è un tuo errore. La bomba. Sai che parla di quello. The Pandora is offering you a pathway deeper into your memory. Pursuit this. Focus and proceed. Ah, dai puh, andiamo. Sedevo. Se ci tocca. Eccoci qua. Ehm... A me sto signore non mi convince, devo essere proprio sincero, cioè... Anzi, mi sta leggermente antipatico, quindi proprio... Non lo vorrei seguire, ma... Non so cosa fare. E questo era chiuso perché c'era i pacchi, i pacchi in mezzo, le scatole. Qual è il... Mi ha vibrato... Ma non c'è nulla. Ah, ok, ok. Trovato. Quindi, cosa stiamo guardando? Molti omicidi. Non ho idea. Ti vorrei warnare, signor. F*****e stinco in là. Beh, allora è un buon lavoro. Ho scoperto la mattina, vado. Eh, in effetti... Ho la buzza che c'è a far colazione e poi sbocchi tutto. Cosa è un'ottima domanda? Ammazza, ho... Ci sono state di prove. Poi, vediamo questo. Ah, basta, non ci fa vedere nulla. Strano, pensavo che qualcosa ci facesse vedere. Nessuna prova ha trovata. Ma come? Ma dov'è il 3? 1 2 E il 3? Dove sta? 5, 4 10 addirittura. No, vabbè. Facciamo il corno di cronologico. Ah, 4, 7. Identificazione non confermato. Sono diversi numeri. Allora, guardate il corno di corno di corno di corno di corno. Non preoccuparti, decidi più tardi. Prendete le uniformi per baggare il tutto. Ho fatto un piccolo peggio. C'è un nuovo cavo che è aperto vicino al NIC. Ti piace? Sì, non ho trovato... Indizi, praticamente. direttamente. C'è un piatto? C'è un piatto? Tu African trying to process too much, Mister Black? Pandora cannot keep up. Concentrate only on the man you came here to find. Verre. Mister Black, right there. Use your scanner. Identify and consolidate your memory. Who is that man? The Pandora will do the rest. Identificazione confermata, Jasper Prado, status, morto. C'è me che pensiamo che possiamo raccontare questo con le ragazze. Se vogliamo farlo, almeno mi guarda in un uomo! Sir, abbiamo un nome, allora. Jasper Prado. Secondo me loro ci stanno portando dentro questo universo per farci risolvere il caso, a quanto pare. Secondo me è così. Sì, ma chiaramente è fatta apposta. Cioè loro vogliono che noi risolviamo i loro casini, il loro, insomma, avete capito. Boh, ancora un po' incasinato, però pian piano la trama sta venendo fuori e stiamo capendo qualcosa di più, circa. O almeno ci si prova, ecco. Ma prima non era così? No, non era così. Quella è la ragazza che volevamo salvare o sembra a me? Ma qua ci vuole il codice, quindi niente, non ce l'abbiamo. Beh, d'altronde... Dobbiamo seguire un filo logico. E si torna qua. Sempre qua torniamo. Qua sono tutti i documenti. Esamina. Però c'è dell'altro, ragazzi. Vediamo un po' tutto. Vabbè, penso che in realtà abbiamo finito, eh? Cioè nel senso... Cioè queste bastano fare. Cioè nel senso... Cioè nel senso... Cioè nel senso... Cioè nel senso... Ma... 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 Ok, quindi noi eravamo sulla scena del crimine per risolvere il caso, però purtroppo non siamo riusciti ad aiutarlo, ho sbaglio. Sto provando un po' a vedere in giro se c'è qualcosa di più, mi piace esplorare e vedere tutte le possibilità, se è possibile sempre, però visto che si può, perché non approfittarne? Ok, non volevo saltare, non volevo fare la foto, allora, ok, un altro documento, dati personali di Jasper. Jasper Pedro, un sacco di cose nel proprio filiera penale piena, 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 ballonata. La macchina di Prado, ah però, non male, non male Prado mio, eh, una bella macchinina, eh, carissimo. Tipo, se volessi... Come si fa a saltare? Non si può saltare nel gioco? Non sa di no. Ne sa di no. Credo che quello che stiamo facendo, siano tutte cose secondarie, credo. Poi, magari, mi sbaglio, ma non credo proprio. C'è dell'altro? No, direi no. Va bene. Eh, qua dietro... Non ci posso andare? Ah, sì, ci posso andare, ok. Sento dei rumori. Ma chi è? Dove... dove sento questi rumori? Sento sbattere contro un portone. Come se qualcuno fosse rinchiuso, ecco. Qua c'è qualcosa, infatti. C'è solo questo? E basta. Vabbè, questo era l'inizio, dove eravamo prima. Dove siamo praticamente spawnati. Da qui si va avanti. Però sento ancora i rumori, ancora gli sbattimenti. Vediamo un po' sul di caso il tasto. Sembra quasi che mi stia perdendo qualcosa. Oppure l'effetto sonoro? Ma non credo. Non avrebbe gran senso. Vabbè. Che succede? Ma come mi tira fuori? Che vuol dire? A red? Ma che... Ma che mi rappresenta? Ah, ma è un rumore di sottofondo. Ora è aumentato. Ma sì, ma sì. Io che pensavo fosse una cosa... Qualcosa da trovare. Un uomo che sbatteva contro la porta. Vabbè. Lasciamo stare. No. Ma cavolo, era facile confondersi. Ragazzi. Allora. Allora. Fuori. Su. 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 Allora. 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 I'm pulling you out. I could care. I found Lear. And you pulled me out. Like I said, you began making assumptions. The Pandora is neutral, Black. And so must you be. Maybe you really were there to save Jasper. But the moment you assume that... To be true, you corrupt the simulation and cast doubt over the memory. If you continue to do so, we will not be able to proceed. Maybe I don't want to proceed. Oh, I think you do, Mr. Black. You wouldn't be here if you didn't want answers. Ma che ca... Qual è sto casino mentale? Sto uscendo fuori pazzo, ormai, da questo gioco. Let's try a different approach this time, Black. Different now. I'd like to try starting... Before Predo was killed. You want me to try again? To save Jasper? I don't want you to try anything, Mr. Black. Everything is prepared for you. Just relax and explore. Yeah, sure. E niente, ragazzi, che dire. Possiamo concludere qua, con questo episodio. Noi ci becchiamo al prossimo video, su Gativen. Un titolo molto interessante, molto strano, lo ammetto, però che mi sta piacendo. Quindi, alla prossima. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao.